Poi arrivò la strada, la telefonata di Fellini. Fellini aveva letto Casablanca e mi chiese se per telefono, pensavo fosse uno scherzo perché sono a sé queste cose, invece no no, sono proprio io, sono Federico Fellini, ho letto Casablanca e le chiedo se sarebbe disponibile a realizzare una parodia su un mio film. A me piacerebbe la strada, ma certamente maestro, sono tutto emozionato. Quando ci siamo salutati poi, sono uscito di casa dove normalmente trovo il mio vicino, trovo amici e cose, con le mani alzate per dire mi ha telefonato Federico Fellini, non c'era nessuno. Sono tornato a casa e c'era mia moglie che mi fa, sai Giorgio che ha telefonato? Ha telefonato Giulietta Masina per dirmi che a lei piacerebbe che il tuo topolino fosse come lo ricordava lei quando era ragazzina. E lì è stata una illuminazione perché non dovevo fare i stessi personaggi che avevo realizzato su Casablanca vestiti come gli attori, dovevo disegnare loro.